Oggi non ho intenzione di parlare del discorso dello Stato italiano che assassina i collezionisti. Oggi mi sono sentito in una situazione molto bella, perché è una situazione di testimone. Ascoltare come delle persone che sono i discendenti dei bambini che giocavano per le strade di Roma all'epoca dell'impero, quando fioriva l'artigianato e nello stesso tempo nel resto d'Europa c'era dell'altro, c'era soltanto della forza fisica, della forza brutta, mi ha riportato a un discorso, uno scontro, per modo di dire, che ho avuto qualche anno fa con un grande collezionista tedesco, che mi accusava di essere marrogante, sprezzante nei confronti dei tedeschi. E mi limitai a rispondere che non ne avevo nessun bisogno, non ne avevo nessun bisogno perché la realtà era un'altra, la realtà era che noi abbiamo più di 2.000 anni di civiltà alle spalle, cosa che loro non hanno. Quando ai confini della foresta nera i marcomanni cercavano di colonizzare la foresta, i romani arrivati fino là si fermavano e lasciavano spazio ai popoli dei confini, ma i popoli dei confini viaggiavano nelle foreste a caccia di topi e di ragni per nutrire i propri figli, le proprie generazioni future. Quando appunto a Roma per strada c'era quello che veniva da tutta l'Europa culturalmente in via di formazione, dalla Culla alla Grecia a tutto il resto Italia, dal 500 prima di Cristo fino al 600 dopo Cristo si è formato in continuazione proprio un profluvio di geni che hanno formato alla fine quelli che sono qui, che esprimono l'arte magari in un altro modo, ma voi siete i diretti discendenti di questa gente. Ed è un grande orgoglio poter dire io sono uno che cerca ancora di mettere in vista questi fatti, che non siano staccati. Il Made in Italy è fin riduttivo come voce, perché Made in Italy significa solo fatto in Italia, dovrebbe essere più stretto, bisognerebbe dire creato da un italiano, perché la nostra genialità si vede così. È fin troppo facile vincere con gli altri popoli. Facciamogli un grande applauso.